Le prime notizie di sabato 12 ottobre. Un bambino di 10 anni ieri sera è stato strappato dalle mani della sorella di 19 e rapito per alcuni minuti da un 29enne del Gambia e accaduto a Brindisi in via provinciale per San Vito. Il giovane, che ha precedenti per atti osceni su minori e minacce con coltello, è fuggito con il bambino in braccio, ma è stato bloccato poco dopo dagli agenti di una volante di polizia che lo hanno arrestato per sequestro di persona e rinchiuso in carcere. Il bambino e la sorella, fortemente provati, sono stati affidati ai genitori. Due uomini si sono affrontati ieri sera alle 19 in via Verdi, nel centro di Modugno. Uno ha sparato con una mitraglietta, l'altro ha risposto con una pistola. Entrambi sono poi fuggiti. Nel fuoco incrociato è rimasto gravemente ferito un cane. Sul posto sono rimasti numerosi bossoli e due auto crivellate di colpi. Pretendevano da un imprenditore che si è giudicato a Mesagne l'appalto per i lavori stradali un pizzo di 50.000 euro e l'assunzione di un loro uomo di fiducia. Quattro persone sono state arrestate dalla polizia per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. In carcere sono finiti Lucio Annis, presunto boss di San Pietro Vernotico, Salvatore Esposito, anche egli di San Pietro, Tobia Parisi di Mesagne e Francesco Sisto di Brindisi. Avrebbe promesso i voti della malavita all'ex consigliera comunale di Bari, Francesca Ferri, e al compagno Filippo Dentamaro per favorire l'elezione di candidati a loro vicini alle comunali di Valenzano. Salvatore Buscemi, capo dell'omonimo clan mafioso di Valenzano, è stato condannato a 20 anni con rito abbreviato. Picchiarono un professore dell'Istituto Maiorana al San Paolo di Bari che aveva messo una nota a una studentessa. Il padre della ragazza, un pregiudicato di 35 anni legato al clan Strisciuglio e un suo complice, sono stati condannati a 3 anni e 2 mesi di carcere dal GUP di Bari Susanna De Felice. È andato a casa dell'ex fidanzata nel centro di Lecce e ha accoltellato l'uomo che era con lei. La vittima, un cinquantenne del posto, è stato ferito a una scapola. L'aggressore, Gioi D'Aferio, 31 anni, è stato arrestato dalla polizia e posto ai domiciliari per lesioni aggravate. A tradirlo è stato il forte odore che si avvertiva passando vicino al capannone che aveva trasformato in una serra di canapa. I finanzieri hanno scoperto e denunciato un quarantenne di canosa che coltivava droga per un valore di 2 milioni e mezzo di euro, sequestrati anche 60 kg di marijuana già pronti all'uso. Emozione all'everano per il ritorno in campo del bomber Luciano Quarta, assente da due anni dopo aver vinto la sua partita più importante, quella della vita, contro il linfoma Nonodkin. Quarta è stato accolto con calore dai compagni di squadra e dai tifosi. Meteo al mattino, rovesci deboli sul Gergano e nuvolosità irregolare sul versante adriatico, ma senza piogge. Pomeriggio e sera con nuvole in transito su tutta la regione, ma senza fenomeni. Temperature inferiori alla media del periodo, con massime non oltre i 23 gradi. Venti di maestrale con raffiche lungo le coste. Mari molto mosso l'adriatico, poco mosso lo ionio. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a lunedì mattina.